Belen regala al figlio Santiago un oggetto davvero particolare Belen Rodriguez non perdi occasione per mostrare sui social momenti della sua vita personale. Mentre il pubblico maschile si dimostra decisamente più interessato agli scatti sensuali della modella, sono quelli della bella Argentina in compagnia del figlio Santiago che fanno più discutere. Molto apprezzati sono stati gli ultimi video pubblicati su Instagram che mostrano mamma e figlio intenti a scrivere la letterina a Babbo Natale. Santiago, come tutti i bimbi, viaggia con la fantasia e, nella lista dei desideri, inserisce anche un insolito mezzo di trasporto. I regali di Santiago nel video Mamma Belen tiene affettuosamente sulle gambe il figlio avuto insieme all'ex marito Stefano De Martino, e lo ascolta mentre elenca quello che desidererebbe ricevere per Natale. Il piccolo ha chiesto un cucciolo di tigre e un gecko verde, ovviamente finti, e un gomitolo di lana da regalare al suo nuovo gattino Stitch. Ma quello che lascia la bella Argentina un po' perplessa è la richiesta di una bicicletta con una scopa incorporata che mentre pedali fa i grattini dietro la schiena. . Il commento di Stefano De Martino. . Questa roba della bicicletta sarà un po' complessa commenta Mamma Belen. . Anche l'ex marito della Rodriguez dice la sua scrivendo ironicamente sotto il video Il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGiver, video. . I due infatti, nonostante il divorzio, sembrano essere rimasti in ottimi rapporti. Stefano, dopo aver lasciato la bella Argentina, ha continuato la sua carriera nel mondo del ballo. . Il prossimo anno invece lo vedremo in diretta da Caio Cochinos. . Sarà infatti l'inviato dell'Isola dei Famosi, come co-conduttore al fianco di Alessia Marcuzzi. . Tra i naufraghi di quest'anno ci sarà anche Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. . . La bicicletta con la scopa sotto l'albero. . Nonostante la richiesta del piccolo De Martino sia stata alquanto particolare, mamma e papà si sono dati da fare per esaudire il desiderio di Santi che il 25 dicembre ha trovato sotto l'albero la magica bicicletta con la scopa che fa i grattini mentre pedala. . . Lo strano oggetto è stato realizzato grazie all'impegno di Damiano Roncolato, titolare del negozio di biciclette ronda-corse di Via Cataio e dalla compagna Gaia che sono stati contattati dalla zia di Santi, Cecilia. . . La vigilia di Natale la magica bicicletta è stata consegnata a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. . . Il video di Santi e di mamma Belen con il nuovo regalo. . . Un altro video ha ripreso l'arrivo di Babbo Natale con l'insolito regalo in casa Rodriguez. . Anche mamma Belen, dopo essersi scatenata in un ballo in compagnia dei fratelli Cecilia e Geremias, ha provato la bicicletta con la scopa, commentandoce l'ho fatta anche io. . .